La bassa Valla Garina per risalire verso Rovereto dove oggi ha fatto tappa una campagna nazionale per l'udito. Vediamo tutti i particolari. Dottor Fraga, quali sono i primi sintomi dell'ipoacusia? Non è soltanto non sentirci più ma magari anche qualche altro tipo di disturbo? No, in genere il primo disturbo, quello che è l'allarme principale, è quando uno inizia ad avere qualche difficoltà d'ascolto nel rumore. Oppure quando ci sono più persone che parlano, la necessità di farsi ripetere le parole appena c'è il minimo disturbo. Poi a volte anche la stanchezza, la sera soprattutto se si è stati in ambiente rumoroso, si inizia a avere fastidio, a sentire la necessità di abbandonare gli ambienti rumorosi. Altre volte sono dei sintomi, uno dei primi sintomi dell'apparecchio di fiva è la comparsa di rumori nelle orecchie. L'associazione nazionale Nonno Ascoltami ha scelto Rovereto tra tante città medie e piccole d'Italia per una serie di test gratuiti dell'udito. In coda in piazza Loreto tanti anziani ma non solo per testare le proprie capacità acustiche. Il pregiudizio e la resistenza a indossare un apparecchio acustico ormai quasi invisibile è ancora forte, però spiega chi di tecnologie acustiche si occupa a livello professionale. Il problema più difficile è quello di decidere di applicare un apparecchio acustico, perché questo è ancora qualcosa che viene visto come un oggetto che dà una brutta sensazione a chi vede. Per cui purtroppo tante persone aspettano troppi anni prima di arrivare ad applicarlo.